Rienterpretando la triglia del Mar Davos, William Zunfa, lo chef stellato abruzzese, ha offerto uno spettacolo d'alto gourmet a Discover Russian Cousin, l'evento internazionale gastronomico russo più importante dell'anno. William Zunfa, unico chef italiano ospite all'evento, ha cucinato un prodotto tipico della tradizione russa con la sapienza italiana. Una triglia sfilettata, ricomposta con la panatura in crosta di patate, adagiata su crema di piselli e guarnita con estratto di cipolla rossa e lampone, insaporita infine con una polvere di pancetta. Quest'ultimo prodotto è stato il tocco abruzzese con cui lo chef ha voluto firmare il piatto. Un piatto che ha riscosso un larghissimo apprezzamento da parte del pubblico, che ha ammirato e ipnotizzato lo show cooking in cui lo chef Zunfa ha spiegato i segreti della tecnica della cucina italiana per lavorare un prodotto di largo uso anche in Italia come una triglia. Qualità e mestiere della gastronomia italiana impiegati nella realizzazione di questo piatto della tradizione russa da parte di William Zunfa sono stati riconosciuti all'unanimità da parte del ristretto numero di assaggiatori presenti all'evento.